Professore Alessio, nell'ambito di questo importante congresso c'è una novità, un servizio gratuito che voi state fornendo a chiunque lo desideri, che è un servizio ad oggi ancora a pagamento. Di che cosa si tratta? Si tratta di un esame diagnostico, la tomografia a coerenza ottica, OCT, per la macula, che è l'esame fondamentale per seguire e studiare i pazienti affetti da maculopatia. La maculopatia è la maggiore causa di cecità legale in Italia, che significa che sono pazienti che rischiano di finire a spese nostre perché non vedono e hanno diritto a un sussidio. Noi dobbiamo cercare di evitare, non di dare sussidio ovviamente, ma di curare i pazienti in modo che non finiscano in questo stadio. Oggi questo esame è ancora a spese del cittadino, si pagano 73 euro per esame. Qui, grazie all'Unione Italiana Cechi e all'APAM, abbiamo a disposizione un camper con la strumentazione necessaria e questi esami sono offerti come screening gratuito per la maculopatia.